Vediamo ora i contenuti e i ministri, speriamo che siano all'altezza. Ripeto, noi andiamo con spirito costruttivo, come siamo stati costruttivi in tutta questa fase lo saremo ancora di più dopo l'indicazione di un Presidente del Consiglio che va nella direzione del modello indicato da Berlusconi. Cerchiamo di fare in modo che il centrodestra possa sempre essere coeso quindi valuteremo adesso, parleremo, ci incontreremo, discuteremo. Berlusconi lo ha nominato al Presidente dell'ABC e il suo governo lo ha indicato anche alla guida della Banca d'Italia quindi mi pare che Berlusconi si è battuto per avere Draghi, Presidente dell'ABC.